Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus, sempre più escalation non soltanto sul campo ma anche di Tony nella guerra con l'Ucraina. L'ultimo in ordine di tempo per quanto riguarda il confronto verbale arriva dall'ex presidente russo Medvedev che ieri ha usato parole davvero pesanti nei confronti dell'Occidente e non era la prima volta che lo faceva, parole considerate dal ministro degli esteri Di Maio pericolose. Si parla anche del viaggio ad Ankara del ministro degli esteri russo Lavrov con la Turchia che si propone come mediatore forte in questo momento per cercare di risolvere la crisi del grano, un'occasione in cui si parlerà sicuramente anche della questione dei colloqui di pace e situazioni rispetto alle quali Kiev per il momento prende le distanze ed è piuttosto scettica. Altro argomento in primo piano sui giornali di oggi è quello che riguarda il salario minimo dopo la direttiva arrivata dall'Unione Europea rispetto alla quale i paesi si dovranno adeguare nel giro di due anni. Un dibattito che sappiamo aperto nel nostro paese se ne discute anche se nel nostro paese la contrattazione collettiva è molto forte e dunque è un argomento che si è da affrontare ma diciamo nello specifico riguarderebbe soprattutto i lavoratori più fragili come sottolinea il presidente di Confindustria Bonomi. C'è anche un'intervista oggi del ministro Orlando che fa il punto della situazione dice sì partiamo da lì ma poi appunto il discorso va affrontato in maniera più globale tenendo sempre presente quello che chiedono tutti che è quello appunto del taglio del cuneo fiscale. Allora partiamo dal Corriere della Sera vedete il titolo principale ci racconta proprio quello che sta accadendo odio e minacce dalla Russia l'ex presidente Medvedev voglio farvi sparire ha detto l'Occidente reagisce Di Maio dice parole pericolose crisi dei grano oggi vertice Russia Turchia e poi Stati Uniti e Vaticano che cercano una soluzione per l'esportazione dei raccolti bloccati. Quello che vi dicevo Bonomi Confindustria questa intervista che troviamo oggi sul Corriere della Sera salario minimo per i più fragili serve un patto reddito lavoro. Poi molta cronaca sui giornali di oggi intanto alla Spezia due delitti in 24 ore fermato un giovane gli amicidi sarebbero collegati e poi ancora un'altra storia che arriva dal Casertano il gestore di un Lido e i bambini tra le onde li salva e poi muore. Andiamo sulla Repubblica. Ora un patto per i salari l'intervista ecco ve lo dicevo del ministro Orlando entro l'estate interveniamo sul lavoro povero e poi giù il cuneo fiscale. L'Istat rivede a rialzo l'indice alla base dei rinnovi contrattuali ma per i sindacati non basta e ancora troppo poco conte. Noi distanti dalla Lega oggi c'è un colloquio sulla Repubblica nessuno vuole far cadere il governo. E poi a centropagina Medvedev contro l'Occidente vi odio voglio farvi sparire l'Ucraina accusa Kerson 600 persone nelle camere delle torture e oggi c'è il vertice Macron Draghi nell'ambito appunto del quale verranno affrontati anche i vari temi legati all'Ucraina. Si parla sui giornali di oggi ancora delle violenze sul Gard c'è un'intervista al prefetto a Peschiera, numeri fuori controllo e poche pattuglie a mente. E poi una notizia che farà piacere sicuramente a tutti, carica batterie unico così i burocrati europei ci semplificano la vita. La stampa, salario minimo un atto di civiltà von der Leyen esulta per la direttiva europea ma il governo italiano si divide Bruxelles, dice, quota e rosa nei consigli di amministrazione. E ancora tra i migranti di Torino c'è un'inchiesta oggi sulla stampa noi seconde generazioni ancora escluse dal tutto. Ancora il delirio di Medvedev occidentali di odio degenerati, voglio farvi sparire, vedete parole veramente molto forti e poi gli ucraini che denunciano nelle camere della tortura a Kherson 600 civili. Il violento attacco dell'ex presidente russo è venuto sul suo canale Telegram e appunto il ministro Dilmaio, l'abbiamo già visto, che parla di affermazioni pericolose. Il messaggero, eccolo qui, l'auto elettrica divide l'Unione Europea. Oggi il voto sul taglio delle emissioni entro il 2035 in un europarlamento spaccato. Il centrodestra con lo stop ai motori termici a rischio mezzo milione di posti di lavoro. Ancora il partygate, il caso Johnson e le conseguenze per gli inglesi. Sappiamo appunto che c'è stato questo voto ma non è passata la sfiducia nei suoi confronti ma appunto Johnson è uscito fortemente indebolito con un partito appunto spaccato. Altra notizia che troviamo oggi sul messaggero riguarda gli infermieri. Ecco il contratto con aumenti fino a 170 euro. Aran e sindacati da oggi al tavolo per la firma entro giugno. Ancora andiamo a vedere anche l'apertura del sole 24 ore. Eccolo qui, PIL del 2022 a più 2,8% ma con rischio di ribasso. Bene, l'edilizia, l'industria invece cede lo 0,9%. Preoccupano l'inflazione, frenata del commercio globale e rialzo dei tassi. Attese positive per il quadro dell'occupazione più 2,5% quest'anno e più 1,6% nel 2023. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Bentornati in studio, proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del fatto quotidiano che questa mattina è dedicata alla famosa lista dei putiniani di cui tanto si parla in questi giorni. Lo scandalo dei dossier investe il DIS e il governo nata negli uffici di Belloni è arrivata al Corriere Vertice con i ministeri. Il 3 giugno tavolo al DIS con esteri interni e a Gcom Gabrielli che dice niente liste. Andiamo sul foglio in taglio alto, a firma di Claudio Cerasa. Non far diventare impossibile, una missione possibile, unire Renzi e Calenda. Si può a ritratto di un progetto necessario spiegato con le parole di Sala e poi viaggia a Odessa viva e libera da far rabbia a Putin. Apertura del domani. Erdogan si comporta da mediatore per distrarre dai problemi interni. L'incontro di oggi con il ministro degli esteri russo Lavrov in Turchia potrebbe sbloccare i rifornimenti di grano. L'atteggiamento di Ankara in politica estera si capisce solo considerando la crisi economica che sta vivendo. Il giornale Mosca parla come l'ISIS, le frasi shock dell'ex presidente Medvedev, li odio, devono sparire. Ancora vediamo anche l'apertura di Libero, Mosca getta la maschera, morte agli occidentali. Medvedev, braccio destro di Putin, dialoga così, bastardi vi farò sparire. E poi c'è sempre il giallo sulla lista dei filorussi del Corriere, gli 007 che dicono non è nostra. E poi il terrorista di Charlie Hebdo, rifugiato in Italia da sette anni, protetto dallo Stato. Ancora vediamo l'apertura del manifesto. L'odio, i russi avanzano nel Donbass e Zelensky ordina i suoi di resistere a Severodonetsk. Negoziati al palo, l'affondo antioccidentale dell'ex presidente Medvedev, più putiniano di Putin, vogliono la morte della Russia, li odio e farò di tutto per farli sparire. Poi c'è la questione del salario minimo anche sul manifesto Europa. Alla svolta, intervista a Luca Visentini, segretario della CES che ha partecipato alla trattativa. Apertura del tempo, tutti contro tutti e vince Draghi verso le amministrative. Il voto nei comuni diventa una sfida tra i leader che mette a rischio le coalizioni, il derby Salvini-Meloni e poi a sinistra Letta che teme che Conte voglia lasciare la maggioranza. Le tensioni fanno il gioco di chi sogna nuove larghe intese. E un bis del premier nel 2023. Apertura della verità. Le banlie italiane presentano il conto, così la sinistra ha creato la bomba africani violenti, hanno fatto arrivare più immigrati di quanti potevamo accoglierne, poi li hanno scaricati nei quartieri ghetto e se ne sono scordati. A chi sollevava il problema davano del razzista, ora sono i magrebini a dirsi razzisti contro di noi. E poi è sgominata una banda di terroristi islamici pronta a colpire in Italia. Vediamo anche l'apertura dell'avvenire, parole pericolose appunto riferite a quelle dell'ex presidente russo e poi l'Unione Europea con i salari equi e adeguati e il via libera appunto alla direttiva. Un'occhiata rapida anche al mattino. Le aperture sono quelle che abbiamo visto anche sugli altri giornali, ossia sulle minacce shock di Mosca. E poi vi segnalo questa intervista all'ambasciatore inglese Roma e Londra in prima linea per fermare l'aggressore Putin. Allora andiamo nelle pagine interne dei quotidiani. Partiamo dunque allora da questo argomento, da queste parole forti di ieri. Li odio, degenerati, la sfuriata di Medvedev. L'ex presidente russo su Telegram sembra prendere di mira gli occidentali. Vogliono la morte della Russia. Farò di tutto perché spariscano. E Di Maio, il nostro ministro degli esteri, che ha definito queste parole inaccettabili e pericolose. L'agenzia federale FAN afferma che Medvedev ha compiuto un atto di patriottismo. Sempre dal Corriere della Sera, soli contro il mondo. Ecco perché al Cremilino serve un nemico più grande dell'Ucraina. Le frasi contro Stati Uniti, Unione Europea e Nato servono a costruire una narrazione eroica con cui la guerra non è un conflitto locale ma una battaglia contro tutte le grandi potenze. Nato, cronaca della crudeltà. Dopo un mese a Mosca, ora è una mostra itinerante. Questa mostra appunto che c'è, pensate, in Russia. Allora, sempre dal Corriere della Sera, le notizie che arrivano dal fronte, la caccia ai collaborazionisti, passano informazioni ai russi. Circa 1.500 i traditori che rischiano il carcere per aver aiutato l'armata. E poi c'è la denuncia di Kiev su queste camere di tortura a Kherson dove ci sono questi 600 civili. Ordigni, sabotaggi, proteste, la guerriglia dei resistenti per respingere l'invasore con l'obiettivo di impedire a Mosca di consolidare il controllo sul territorio. C'è un'intervista oggi che vi segnalo, l'ex premier Yulia Timoshenko che dice aspetto i russi a Kiev con il fucile in braccio. Nessun ucraino vorrà rinunciare alla Crimea. E dice in questa intervista, tra le altre cose, Medvedev è un servo. L'Avrov può solo obbedire o sparire. A Salvini consiglio non perda tempo con un viaggio a Mosca. E poi ancora, scusate, un altro passaggio. Insiste anche lei sulla questione delle armi. Dice dateci armi e la guerra può finire entro il 2022. La svolta quando arriveranno ad agosto. Ancora sempre sulle questioni che riguardano appunto la guerra. Abbiamo detto la denuncia degli errori di Kherson. Ma oggi appunto ci sono due appuntamenti importanti. Uno appunto è quello di Lavrov ad Ankara. E poi ce n'è un altro però, Draghi e Macron. C'è questo incontro Italia-Francia. Visioni diverse sull'Ucraina e un'Unione Europea intesa sull'economia stasera all'Eliseo. L'incontro bilaterale, il nodo della concorrenza nel mercato della difesa. Ma il premier cerca comunque una sponda sul tetto al prezzo dell'energia. Che è un tema che è ancora da risolvere. Ancora sempre appunto sulla questione del grano. La questione appunto che si sta cercando di risolvere. Se la fama in Africa ora scuota l'Occidente. In molti paesi subsahariani e asiatici rischiano la rivoluzione. Pensate per la mancanza di cibo. E l'altra faccia della globalizzazione nascosta dall'illusione della ricchezza per tutti. Dunque un aspetto che rischia di avere davvero delle pesantissime ripercussioni per alcuni povoli della terra. Ancora andiamo all'altro argomento in primo piano sui giornali di oggi. Quello che riguarda il salario minimo. Intanto la Repubblica fa un focus. Stipendi summa meno dei prezzi. I sindacati così non basta. L'Istat rivede l'indice alla base dei rinnovi contrattuali che sale al 4,7%. Ma per CGL e Cisleville è insufficiente a contrastare l'inflazione dal commercio al turismo. 6,8 milioni di lavoratori con accordi collettivi scaduti. In alcuni settori si vedono già rialzi più decisi fino al 10%. Nodo dei piccoli. E c'è un'intervista al Ministro del Lavoro Orlando, eccolo qui, sulla Repubblica. Entro l'estate una spinta ai salari bassi. Poi giù dice il cuneo fiscale. Leggiamo un attimo il passaggio di questa intervista. Allora il Ministro dice La direttiva può aiutare a costruire in Italia un equilibrio tra contrattazione e salario minimo indicando i criteri di un livello equo. Se ne discuterà quando arriverà alla fase del recepimento ma intanto ci offre spunti per iniziare a fare subito dei passi in avanti. E poi ancora rispetto alle questioni che riguardano anche i rapporti con Confindustria Carlo Bonomi dice che il tema non riguarda Confindustria non riguarda Confindustria perché ha contratti con soglie superiore a 9 euro. dice di più che lei non ascolta le imprese e Orlando risponde non è del tutto vero perché alcuni contratti sono stati rinnovati ad un livello superiore ma ci sono ancora contratti non rinnovati che stanno sotto quella soglia soprattutto nei servizi. La questione che riguarda tutti però è un'altra. Come si dà più forza a quei contratti e si consente di intervenire anche nelle imprese dove il contratto buono non produce i suoi effetti. e andiamo allora a vedere le parole di Moromi di Confindustria oggi in un'intervista sul Corriere della Sera eccolo qua rispetto al salario minimo dice va bene ma soltanto per i lavoratori più fragili il presidente di Confindustria dice un patto sociale Draghi ci convochi per la politica dei redditi e poi dice no alla spirale prezzi salari ma per i redditi sotto i 35 mila euro serve un intervento dice strutturale e poi ancora serve un patto preelettorale tra i partiti contro l'aumento dello spread un altro aspetto appunto importante di questa questione. La questione rispetto alla quale c'è il no di commercianti e artigiani dicono prima tagliare il cuneo fiscale e poi ancora un altro aspetto che vi volevo far vedere eccolo qui ora intese di settore i sindacati aprono la proposta di Orlando CGL Cisle Will per il via libera arrivato da sono soddisfatti per il via libera arrivato da Bruxelles difesa la contrattazione ma adesso dobbiamo accelerare sui rinnovi ed è tutto per la rassegna stampa e ora lascio spazio a Paolo Sottocorona per il meteo buongiorno Paolo grazie Emanuela buongiorno sull'Italia non ci sono molte nuvole si trova in realtà stretta tra virgolette fra la nuvolosità di ieri che ha dato dei fenomeni soprattutto al nord vedete ancora sta dando fenomeni sulla penisola balcanica e c'è una specie di coda di questa perturbazione che sta interessando il basso adriatico con qualche temporale davanti alle coste della Puglia ma questa è la situazione dicevo di ieri quello che sta passando quello che sta arrivando si affaccia da ovest da sinistra dalla Francia sono nuvole al momento non intense ma dietro sta arrivando qualcosa di più consistente vediamo allora la giornata di oggi come previsione di piogge complessivamente vedete che su tutte le zone del nord c'è presente questa instabilità non estesissima in qualche caso è isolata però le macchie gialle o in qualche caso addirittura rosse vedete e non parliamo solo delle zone montuose siamo anche in pianura fanno riferimento a fenomeni anche localmente intensi quindi temporali forse anche temporali forti per quello che riguarda il centro qualche debole pioggia nel pomeriggio sulle zone interne soprattutto fra Toscana in parte Umbria poco le Marche e poi l'Appennino meridionale che comincia comunque a dare segni anche qui di qualche instabilità qualche temporale l'Appennino ma poi in realtà si arriva anche nel Salento vedete qualche piccola macchia ancora oggi è una giornata forse incerta con qualche fenomeno isolato ma è proprio il segno di qualcosa che sta cambiando e domani sarà una giornata decisamente diversa perché è vero che sulle zone di nord ovest e sulle isole maggiori ci sarà ben poco ma sulle zone di nord-est l'instabilità è forte estesa i fenomeni possono essere molto intensi e molto frequenti e si presentano con varie intensità dal debole poche devo dire col colore verde all'azzurro di nuovo il rosso vedete tutta la fascia adriatica e quella del basso tirreno con fenomeni molto forti quindi è una giornata di maltempo molto marcato sicuramente da allerta chiudiamo con le minime di questa mattina no c'era l'altra c'era l'altra cartina giustamente ci dovrebbe essere la cartina di venerdì in cui resta il maltempo molto intenso al sud e sul medio versante adriatico tendenza a miglioramento sulle altre zone i due flash finali ecco le temperature minime di questa mattina sempre relativamente alte al sud guardate la temperatura del mare come è elevata chiaramente risente delle temperature che sono comunque un po' in discesa lo stato dei mari e questi cominciano a muoversi perché poco mossi vale a dire il celeste ce ne sono sempre di meno quindi fra mossi e molto mossi è la situazione prevalente se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuele Agarulli a più tardi grazie a tutti e grazie a tutti Grazie.